Spunto una ZTL in zona commerciale a Marghera e subito scoppia la polemica, il comune fa mea colpa. Stallo sull'acquisizione del San Camillo, la CGL di Venezia chiede subito un confronto. Il vicepresidente della Municipalità di Marghera ha controsemenzato il suo intervento delle foibe, è stato xenofobo. Erika, 19 anni di Castello e la Maria 2018, lei dice amo la mia città e non la lascerò mai. Buonasera e vi ritrovate all'appuntamento con l'informazione dal territorio di Venezia. Andiamo subito a Marghera dove improvvisamente è spuntata una nuova ZTL e ovviamente non sono mancate le polemiche. Il segnale è comparso all'improvviso in via del lavoratore all'interno dell'area commerciale di Marghera. Per chi riesce a leggerlo nonostante la grafica dir poco confusa, sancisce il divieto di transito per i tir da più di 3,5 tonnellate. Il Comune ha attuato un'ordinanza che risale al 2011, cioè i tecnici comunali, che tanti dovrebbero essere presi per le orecchie, hanno attuato questa ordinanza che risale a 7 anni fa. Trovandosi immediatamente dopo una svolta e senza percorsi alternativi per evitare di passare sotto l'occhio delle telecamere già installate, l'unico modo di evitare il varco sarebbe un'improvvisa inversione di marcia. Manovra pericolosissima in corrispondenza di una curva a gomito in una via piuttosto trafficata. Ma i problemi non finiscono qui, almeno per chi opera con la sua azienda all'interno non di un centro storico ma di un'area commerciale e riceve quotidianamente merci dai fornitori. Ci siamo trovati questa sorpresa e noi siamo stati assolutamente contenti, anche perché siamo l'unica azienda che si ritrova inserita all'interno della ZTL VAM due cancelli, che sono gli unici due cancelli carrabili che abbiamo per far passare i camion. La titolare della ditta ha contattato il responsabile comunale della mobilità e l'assessore alla viabilità Renato Boraso, che le avrebbero informalmente assicurato che si è trattato di un errore. Il comune sarebbe quindi già alla ricerca di una soluzione al pasticcio. Ma dal Movimento 5 Stelle chiedono risposte ufficiali e immediate. Siamo nel cuore di Marghera, sono tutte piccole attività artigianali e industriali e quindi vanno tutelate, vanno salvaguardate. Non si deve bussare alla loro porta solo per le imposte, le tasse, ma anche per chiedere sinceramente di che cosa hanno bisogno. Sicuramente non hanno bisogno di una telecamera. Invece è un stallo sull'acquisizione dell'ospedale San Camillo, è tanto che la CGL chiede subito un confronto. Anche il Patriarca Moraglia è intervenuto sulla delicata questione dell'ospedale San Camillo a Lido di Venezia, auspicando che la proposta di Villa Salus per l'acquisizione avvenga a fronte della presentazione di un piano industriale credibile. Così concorda anche la CGL. Noi abbiamo accolto favorevolmente le parole del Patriarca che invita a trovare una soluzione. Noi siamo convinti che serva a fare in fretta perché ormai da più di un anno si discute del futuro della struttura. È una struttura molto importante. San Camillo occupa circa 300 lavoratori, se consideriamo anche gli appalti, a cui si aggiungono i lavoratori di Stella Maris. Quindi una realtà economica, occupazionale fondamentale per il nostro territorio. Gli possibili acquirenti, qualunque siano, se sarà Villa Salus lo vedremo, devono presentare un piano industriale chiaro perché servono non solo acquisire la struttura ma servono anche investimenti strutturali e sul personale importanti senza in quali si rischia di compromettere il futuro. In queste ore molti lavoratori pensano ad andarsene da quella struttura perché vivono ormai da più di un anno una situazione di incertezza. Medici, operatori, professionisti della sanità con grandi competenze che se non agiamo in fretta rischiamo di perdere. I tempi infatti sono molto stretti, così come la necessità di un confronto immediato dal momento che la proprietà sostiene il sindacato ha sempre avuto un atteggiamento poco chiaro nei confronti dei lavoratori. Servono investimenti urgenti, quindi noi chiediamo a tutte le forze in campo, ovviamente alla proprietà ma anche a chi è interessato all'acquisizione, di aprire subito un tavolo di confronto perché la struttura va rilanciata. Un accordo, se dovesse esserci il passaggio, quindi se i camigliani confermeranno la volontà di uscire, entro un paio di mesi perché altrimenti rischiamo veramente di perdere la forza e anche la capacità di rilanciare un territorio come quello della sanità veneziana che non può perdere un'eccellenza simile. Torniamo ora a Marghera dove il vicepresidente della municipalità si schiera contro semenzato. Il suo intervento sulle foibe, ha detto, è stato xenofobo. I nostri deportati in foibati, fucilati, annegati o lasciati morire di stenti e malattie nei campi di concentramento iugoslavi non sono più morti in serie B. Grazie. È polemica sull'intervento del consigliere regionale Alberto Semenzato alla cerimonia del giorno del ricordo di sabato scorso. Ad attaccare alcuni passaggi del discorso il vicepresidente della municipalità di Marghera, Bruno Polesel. La sinistra, aveva detto semenzato, almeno quella comunista è l'ultima a poter dare lezioni di umanità sull'accoglienza ai profughi, visti i crimini di cui si è resa responsabile. Atrocità, accusa l'esponente del PD, descritte dal leghista con dovizia di particolari, nonostante la presenza di bambini alla commemorazione. Ma quel che è più grave è l'interpretazione politica di quei fatti che proprio la sinistra Marghera ha sempre commemorato, collaborando con le associazioni degli esuli. Oggi in Italia, lo sappiamo tutti, sta crescendo un vento molto preoccupante di uno spostamento, come si può dire, non dico a destra del paese, ma addirittura oltre da questo punto di vista, in cui si è centratutto sui problemi di accoglienza, di raccismo e anche qualche regurgito neofascista. Ecco, per questo è stato inopportuno, perché sta cavalcando proprio sto vento. Polesel chiede all'associazione Venezia Giulia e Dalmazia, che da anni collabora con comune e municipalità per organizzare la commemorazione di dissociarsi dalle parole di semenzato. L'aspetto che anche mi ha un po', in qualche modo, non dico preoccupato, ma mortificato è che è stato anche applaudito. Restituisco al mittente l'accusa di razzismo, ribatte semenzato, accompagnata da una querela che inoltrerò oggi stesso. Quanto alle foibe ho solo ricordato una verità storica. Io penso che la sinistra non abbia preso alcuna distanza da questo, anzi abbiamo visto le manifestazioni che ci sono svolte nel territorio in questi giorni, tra le altre anche a Macerata, che slogan venivano gridati appunto. Io penso che la sinistra non abbia preso assolutamente le distanze da questo. Cambiamo decisamente argomento, perché Erika, 19 anni, di Castello, studentessa di Economia, la Maria del Carnevale di Venezia. E' un'emozione troppo forte, non so nemmeno io cosa dire in questo momento. Devo ancora metabolizzare la cosa. Eccola, la nuova Maria del Carnevale. A pochi minuti dalla sua elezione, ieri sera al Teatro La Fenice. Dopo dieci giorni di sfilate, lezioni di portamento e iniziative di solidarietà, Erika Chia, 19 anni di Castello, ha vinto il concorso più ambito del Carnevale. Un sogno che per lei si corona. Io fin da quando sono piccola desideravo partecipare. Insomma, le Marie partivano da San Pietro di Castello, quindi le ho sempre viste. E quindi da quel momento lì dicevo chissà, quando avrò 18 anni mi iscriverò. E così è stato, è stata una grande vittoria solo essere qui e vivere queste bellissime esperienze. Erika ha conquistato la giuria con il sorriso, la spontaneità e naturalmente la sua bellezza. Studentessa di economia aziendale a Padova raccoglie il testimone dell'Angelo 2018, Elisa Costantini. E di una cosa è certa, non lascerà la sua amata città. Venezia è la mia città, Venezia è la città che amo. Venezia, io voglio vivere qui e cercherò di rispettarla in tutti i modi. Sono anche legata alle tradizioni di Venezia perché fin quando sono piccola sono nata e cresciuta in barca. Perché grazie alla passione di mio nonno che mi ha trasmesso e che ha trasmesso come me anche i miei cugini, che è l'artigianato. L'incoronazione ufficiale davanti alle altre Marie e al pubblico nel pomeriggio in piazza San Marco in occasione dello svolo del Leon che chiude il Carnevale 2018. Grazie a tutti. Vediamo l'anno prossimo, vedremo Erika volare anche dal campanile e da Venezia invece per oggi è davvero tutto. Mi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Rete Veneta. Arrivederci. Grazie a tutti.